Oggi scopriremo come fare acquisti online in sicurezza. Per prima cosa mai utilizzare pc condivisi da locali pubblici, utilizzare solo siti che hanno un'ottima reputazione, controllare che il sito sia corretto e soprattutto che ci sia il simbolo del lucchetto che è simbolo di figuretta. Selezionate con cura il prodotto e controllate attentamente le condizioni di vendita. Se avete qualche dubbio contattate il mittente. Prestate attenzione a tutte le fasi dell'acquisto, il prezzo finale, le modalità di pagamento, le modalità di spedizione, l'indirizzo di spedizione. Procedete al pagamento e inserite il codice di sicurezza ove richiesto. Una volta arrivato il prodotto controllate che corrisponda a quello effettivamente ordinato, controllate l'email di conferma con il riepilogo del vostro acquisto e infine controllate l'estratto conto della vostra carta per controllare tutti gli acquisti effettuati. Lo shopping online è pratico, la sicurezza fa la differenza.